Un 2021 da record per i risarcimento riconosciuti ai risparmiatori da parte dell'arbitro per le controversie finanziarie organo della Consob per le controversie tra gli intermediari e i loro clienti Con 35,8 milioni rientrati nelle tasche dei risparmiatori è stato toccato un nuovo massimo a fronte dei 28,9% e dei 15,7% risarciti rispettivamente nel 2020 e nel 2019 Nel primo quinquennio di attività sale così a oltre 120 milioni l'ammontare complessivo dei rimborsi decisi dalla CF e in rialzo del 21% anche il tasso di accoglimento dei ricorsi In forte crescita inoltre i volumi dell'attività con un abbattimento dei tempi istruttori e decisionali di quasi il 40% rispetto agli anni precedenti L'obiettivo è azzerare l'arretrato entro fine 2022